Prevede di fare sul territorio, quindi compresi anche i lavori di ristrutturazione, cambio eventualmente, dicevano gli interventi, il piano economico finanziario e l'eventuale convenzione rinnovata secondo i dettami della RERA. La RERA sarebbe l'autorità nazionale che dovrebbe controllare certe situazioni. Se hanno falsificato i bilanci perché loro hanno annunciato certi lavori e non li hanno fatti, ci hanno aumentato le tariffe senza farci lavori e quindi ci hanno rubato anche qui. Tipo depurazione. Giusto, no? Ah, poi vedevo un'altra cosa tecnica importante. Le tariffe vengono naturalmente deliberate dall'Assemblea dei Sindaci, però la delibera dell'Assemblea dei Sindaci è una delibera non completa, diciamo parziale, perché questa delibera, insieme a tutti gli allegati naturalmente tecnici, devono andare a essere trasmessi a questa autorità nazionale che li...